Il mistero è stato finalmente svelato durante un pomeriggio come tanti altri quando all'improvviso arriva alle testate giornalistiche un comunicato stampa con tanto di foto, logo e un invito a non mancare alla presentazione ufficiale. Stiamo ovviamente parlando dell'ex sindaco di Modica Ignazio Abate che due mesi dopo le proprie dimissioni e con alle spalle tutte le amministrative decide adesso di tornare allo scoperto confermando quanto già trapelato nei mesi scorsi il volto di Abate infatti è e sarà accompagnato dal simbolo dell'Udc per competere alle prossime regionali da autunno dando così risposte a chi da settimane si domandava che fine avesse fatto il sindaco dimissionario. La candidatura con l'Udc è adesso ufficiale e Abate parla di una nuova vita politica e di un nuovo progetto politico. Questo è quanto si legge proprio nella grafica che accompagna l'invito all'inaugurazione della nuova sede politica in Corso Umberto prevista per sabato prossimo alle 18. Lunga la lista delle personalità di spicco che terranno a battesimo questo nuovo progetto a cominciare dai segretari nazionale e regionale dell'Udc Lorenzo Cesa e Decio Terrana, l'assessore regionale all'attività produttiva Mimmo Turano, l'assessore regionale al territorio ambiente, l'assessore regionale all'energia Daniela Baglieri, il neosindaco di Palermo Roberto Lagalla, il coordinatore provinciale dell'Udc Silvio Meli. Occasione utile anche per presentare il claim che accompagnerà l'ex sindaco verso la nuova sfida d'autunno, ma se un mistero è stato appunto svelato, un altro si apre osservando appunto la lunga lista di spicco appena elencata da Abate. Tra tutti infatti manca proprio il nome di Pinuccio Lavima, Modicano, vice coordinatore regionale dell'Udc. Una dimenticanza o tutto lascerebbe già pensare a qualche dissapore interno tra i due. Sentito telefonicamente Lavima, la risposta sembrerebbe proprio la seconda, ovvero una marcata divergenza di idee e programmi che si nota già alla vigilia di questo nuovo matrimonio politico. Lo stesso Lavima, senza entrare però nei dettagli dei dissapori, ha già comunicato che sabato non prenderà parte all'inaugurazione della sede elettorale, poi in futuro magari tutto potrebbe cambiare, ma attualmente il vice coordinatore regionale dell'Udc si troverebbe anni luce lontano dal candidato Abate.